Quest'anno al Cosmo Prof abbiamo presentato Flair, la nostra nuova linea di fragranze fiorite che raccontano la voglia di natura, di leggerezza, di romanticismo e di poesia. Le note fiorite sono da sempre un must della profumeria e noi abbiamo voluto reinterpretarle senza stravolgere quel tocco di tradizione che portano con sé. È una selezione di fragranze che esprimono tutte le sfumature delle note fiorite spaziando dai toni più freschi come quelli della Mimosa 7229, l'ota luminosa, fiorita e verde dalle delicate sfumature pudre, a quelli più caldi e sensuali dell'iris sublime 60136, una composizione voluttuosa e avvolgente dai tocchi vanigliati e talcati e passando attraverso le note frizzanti del ranuncolo 22157 bis, una fragranza delicata in cui gli accenti dolci dei fiori si armonizzano con quelli morbidi dei legni e dei muschi. Amiamo essere sempre attenti agli input che provengono dal mercato, che ormai da diversi anni esprime l'esigenza di utilizzare prodotti che siano in armonia con il benessere della persona. Per questo da tempo lavoriamo in modo da venire incontro il più possibile a queste richieste e negli anni abbiamo realizzato una grande varietà di proposte ad hoc, come le fragranze senza allergeni, quelle realizzate esclusivamente con oli essenziali naturali, quelle certificate bio. Ora stiamo mettendo a punto una nuova linea di fragranze natura, realizzate con ingredienti naturali dai ritocchi frizzanti e delicati che presenteremo nei prossimi mesi.